Sono Alessandro Sanna, faccio l'autore di libri per immagini. Io disegno qualsiasi cosa e ho anche il mio maestro che si chiama Mano Felice, che mi insegna a disegnare tutto. Lo strumento fondamentale sono praticamente due, anche se è una cosa, la testa e gli occhi. Poi puoi usare una matita, come puoi usare del catrame, come puoi usare una piuma, come puoi usare l'acqua, come puoi usare qualsiasi cosa, ma se usi la testa in un certo modo, quello è lo strumento più importante.